Sentite, a me non è che faccia tanto piacere passare come il persecutore delle testioni di Geova, perché è questo che adesso sta giocando questa cattedra di guardia, no? E chi la difende? Ah, poverini! Allora, i poverini sono quelli che vengono sottoposti a un silenzio punitivo da 10, 15, 20, 30 anni, mamme, papà, suoceri, fratelli, amici, in nome di questa ideologia. Ma nella prima comunità cristiana le cose erano risapute, sia quelle belle che quelle brutte, si condivideva tutto. Allora, a me dispiace che a fronte di questa vostra incondizionata sottomissione, come scrive un certo serveto su Accademia, no? Lo studio che ho letto su, insomma, incondizionata sottomissione al corpo direttivo, allo schiavo fedele e saggio, faccia poi di scontro questo occultamento di cose, quello che sono, e agli atti dei tribunali in Norvegia, di quella causa di cui, tra l'altro, non state capendo comunque nulla, perché sul sito, abbiamo detto, non è riportata la notizia, appunto, della perdita del riconoscimento giuridico. Bene, l'avvocato Mondano, profumatamente pagato, abbiamo visto, Ristal, pensate, ha detto ai giudici, sono le bugie teocratiche, no? È stato addestrato per questo. Perorando la causa dell'organizzazione, alla fratellanza, non vengono date regole o indicazioni su come comportarsi con i disassociati e dissociati. Tutto è lasciato ai singoli fratelli, non ci sono ostracismi né indirizzi di sorta di questo tipo, né indicazioni di sorta, voglio dire. Al che la corte ha mostrato sia i video delle chiamate telefoniche le spinte, sia il pascete e il gregge. A quel punto ha cominciato a sudare freddo e ha detto che un tribunale, udite, udite, statale, non può giudicare un libro sacro e tale è il pascete. È un libro religioso, quindi non può essere oggetto di un tribunale civile. Ma ragazzi, ma voi condividereste mai una affermazione del genere? Anzi, mi è sempre stato detto, boh, guarda, non c'è niente di strano a questo manuale, semplicemente lo leggono come giusto che sia gli anziani, è solamente una collezione di testi sparsi qua e là. Falsa anche questa affermazione, perché mi si deve spiegare allora, perché all'inizio proprio del manuale è scritto che ogni copia, quando un anziano viene a dimettersi o essere dimesso, deve essere distrutta e anche le copie digitali cancellate. Quindi, mi si deve spiegare perché poi bisogna distruggere un libro in che non contiene niente di compromettente. Quindi, boh, non lo so. Io dico che se uno vuole approfondire, se uno veramente vuole approfondire, la possibilità c'è, state la scelta, state la scelta, mettere la testa sotto la sabbia o dire, vabbè, comunque per me questa è la verità, non mi importano tutte queste cose, Geova verrà a fare pulizia nella sua casa, prima o poi le cose si verranno a scoprire, però io continuo su questa strada.